Ho organizzato un menù che levede! E' festeggiato a Capotavola! Ma perché mi festeggiate? Me ne sape o perché paghi il pranzo a tutti? Mettete due, mettete due! Mette invece un bel po' di pecorino sulla pasta! A me mi piace amaticciare! Sono la lana avete fatto per averi brava! Ricordate che sono una signora, io sono nata a Tartufaroli! Ma Yolanda, ma tu non vieni? Vengo subito papà, un momento! Calma, calma ragazzi, qui invece metto io, poi ci stiamo a miei posti eh! Piuttosto, Arturo e Giovanni dove siete a finire? Papà sta al bagno con Arturo! Io li vado a chiamare! E' naturale! Tu hai aspettato che io mi fidanzassi con Yolanda per farti prendere dalle smanie! Ah Giovanni, ho sempre saputo che Yolanda aveva un debole per me! Per questo stavo tranquillo, andavo a pensare che tu ti mettevi in mezzo! Guarda, sei una coscienza sporca come questa asciugamano! In mezzo eh! Ma naturale, in mezzo, in mezzo, chi ti considerava? E invece adesso mi considera! Ah aspetta, aspetta, non te l'anna, stiamo qui, parlamo! Io te calcolo, te considero, tant'è vero che ti chiedo di fare un sacrificio, che vuoi più? Di un po', ma che sono sacrifici che si chiedono questi? Io decido di sposarmi... Chiesi Noè! Prego! E tu mi vieni a dire, dammi tua moglie, vuoi io? Ah Giovanni! E poi che ci devi fare? Come dice? La prendi in forza io! E te la sposi! Sì, la sposo! Eh sì, perché se no vuol dire che tu mi vuoi portare via la mia donna e questo è un atto discorso! Va bene, la sposerò! No, no, te la sposi subito, adesso! Adesso? Sì, adesso! Artù, quante volte abbiamo litigato da ragazzini? Tre, quattro! Eh, che potremmo fare? Cinque? Sei! Hai finito di asciugarti le mani sulla giacca mia? Cosa c'è? Ma bevo le ditte a capo tavolo! No, no, no! Qui ci si deve mettere uno che mi deve diventare quasi come un figlio! Uno? Eh, ma allora c'è qualche bella novità! Che starei? Papà, ma perché devi raccontare queste cose? Eh, ma perché? Non si può notire queste cose, dato che il prezzo la devo pagare io! Sarà meglio che festeggiamo tutte e due le cose insieme, no? Ma poi mica ti devi vergognare, del resto è un bravissimo lavoro! Certo, non sarebbe proprio il più adatto, ma dato che avete voluto così... Certo, non ci fate questa curiosità! Ma insomma, chi è? Dio mio, è un po' sfortunaterlo! Ma ancora prima di sposarsi! Ah, ecco lo sposo! Uuuuh! Certo, io lo sposo! Ma che è, sono due! Cammino! Ma io l'ho, ma che ti sposi tutte e due? E che fai? No, no, lui sta bene qui accanto a voi! Ma dove ci fai qui? Che ci faccio, vorrei sapere anche io che ci faccio! Ah, sor c'è! Con Iolanda mi sacrifico io! Come? E se Arturo che è un amico si sacrifica, mi sacrifico pure io! E Iolanda si sacrificherà pure lei! Eh? Eh, ma mi ha voluto far capire qualche cosa! Iolanda! Non è capricciosa, sor c'è! Eh, ma che fai? Che ti succede? Piantala, ma! Piangi? Ah, Giovan, piagnerei io, lo vedi? Ma che piangi? Oh, ma tu che ne dici? Che ne so, è l'uomo che comanda! Hanno fatto tutto loro! Non c'è roba da macchina! Ma dico io ho trovato questa cosa! Ma volete passare per prima? Ma la stai lì! Oh, ci ho capito mai niente con questi tre! Fino da ragazzini! Ma sì! Allora... Ma devo baciarlo! Ma sì, baciatelo! E baciatelo, baciatelo! E baciatelo! Qui in mezzo alla strada, davanti a tu! E te lo voglio baciare! Ma no! Genero mio! Grazie! Auguri! Grazie! Brava, brava, Yoranna! Grazie! Fiorella, Fiorella, sei contenta così? Ah, bacio, bravo! Grazie, bravo! Grazie, bravo! Grazie! Dalla un saluto! Ma Giovan, ti chiedo ancora un piacere! Ad Arturo non glielo diciamo mai! Non gliela le vasta soddisfazione di aver rubato la donna al miglior amico suo! Stai tranquillo! E auguri anche a te! E di che? Tutta la felicità che desideri! Ma io sono felice! C'ho il lavoro, il ragazzino, io sto a posto! E' di te che ti dovevi sistemare! Adesso siamo tutti contenti! Grazie! Oh, papà! Papà, quello sono io! Ovevi! Pernobè! Cos'è chi è questo? Sono io! Scusa un po', Yoranna! E' mio padre, vota bene! Finiranno le mie pene? Cos'è? Sì! Ma quando ti hanno fatto questa fotografia? Quando sono stata convincita a Zia Farucci! Ti pareva che non c'entrava quel delinquente! Dico, lo strappiamo sto manifesto? Ma lasse me la vorrà! Ma chi? No, no, ho detto lo strappiamo questo manifesto! Oh, signor, ritorni un po' qua! Va bene, sì! Eccoli qua, buoni questi! Lasciatemi passare! Chi è che fa dato il permesso di organizzare sta buffonata? Ma questo l'ha autorizzato l'affissione! Beh, io non autorizzo proprio nette, quindi strappate tutto qua! Guardi che le do sto per me! Se lo riesco? Se lo riporto? Spaccherai tutto! Spaccherai tutto io! Ma chi è? Già! Hai capito! Bello pelotone mio! Torno subito! Ragazzi, ci sono arrivati gli spaghetti! Ehi, ti va lì a mangiare! Cominciate, cominciate pure! A Giovanni! Dove vai papà? Cammina, vai a mangiare! Papà, voglio venire pure io, dove vai? Lo so io dove vado! Vado, vado, vado a mettere in riparo i danni che hai fatto tu! Hai capito che ti hanno sfottuto? Ti hanno attaccato lì come un pupazzo al muro! Eh? Ma che ti importa della politica? Lascialo bene! No, non c'entra la politica, è un'altra questione questa! Papà, se c'è da me non mi amo! Eh? Se c'è da me non mi amo! Eh, va bene! A Giovanni! Ma la smetti di guardarmi così? Perché è comodo e guardo! Eh, tu mi guardi dal basso all'alto, io... Se fa che non ti guarda più! Vieni un po' qui! Adesso bisogna smetterla, sai? Con sta storia che sei un ragazzino! Ecco qui! Adesso, alla stessa altezza, parliamo da uomo a uomo! È chiaro? Dunque! Che ha detto quella là? Ma chi? Quella con la boccona? Eh, va bene quella con la boccona! Che ha detto? Facciamo vedere il pranzo! E tu... E tu accetteresti? Io ho fame! Se non si mora, almeno si mangia! Lo sai che dopo dobbiamo contragambiare! Bisogna invitarla a casa nostra e... A te ti piacerebbe? Posso che porta il negro? Io lo faccio vedere amici miei! Senti, tu a sta altezza non ci puoi stare, sa! Ma è possibile? Non hai capito niente? Ma che cosa ho detto io che... Oh, la mia mascotte! Il padre! Sì, signore! Noi ci siamo in travista alla centrale, mi pare! Sì! Di fatto io volevo... Ma sono io che devo ringraziarla! Per il manifesto e per il resto! No, guardi che qui c'è un... C'è un debito che ho contratto con lei! E io sono galantuomo! Non dimentico! Allora... Accetti il mio invito? Uniti nel manifesto e uniti a tavola! Papà, accettiamo? Ma sì, per bacco! E' un prato la buona, sa! In famiglia! Nel mezzo dei cammin di nostra vita... Uno ci sposa... E la faccia è finita! Ah papà! Dai c'entra il mio fraccia! Stai buono! Giovanni che fine ha fatto? Non lo so! Giovanni è partito per l'America e non lo riccappavo più! Ah papà, ma tu hai bevuto troppo! Ah, salute figlia! Calma!